Siamo a Moerati, una piccola cittadina sulla costa tra Dunedin e Christchurch. La particolarità di questo posto è questa spiaggia, che è molto larga e molto lunga, dove ci sono questi geodi che sembrano delle biglie lanciate da un bambino. In realtà sono delle pietre che si sono fermate qua ed è importante vederle durante la bassa marea, perché sennò sono riperte d'acqua. Sono molto carine e adesso faremo una passeggiata. Si possono vedere anche dei piquini e delle otarie, però noi non saremmo più riusciti. Guardate come sono di forma. Questa atmosferica perfetta. Anche queste due qua. Questa è crepata, ma non si vede l'interno. Qua ce n'è una rotta. Possiamo vedere com'è nel suo interno. L'interno della Muiraki. Tutta rotta. alle mie spalle, secondo me, ce n'è una molto particolare. è ancora tutto da scoprire. Non è ancora stata scavata dal mare. Chissà come ci è arrivata qua questa enorme palla. vediamo Simone che fa il bagno. Siamo a Omaru. L'attrazione principale è Bush Beach. Praticamente qua ci sono i pinguini, vedete? Yellow Eye Penguin. I pinguini dagli occhi gialli. E così vediamo anche il pinguino. Vorremmo vedere un sacco di pinguini, ma ce n'è uno solo. meglio che niente. Sì, ma è lontanissimo. Però, almeno c'è un pinguino. Sì. Hello. Mentre stavamo andando alla colonia dei pinguini blu, abbiamo trovato un porticciolo con giusto qualche uccellino. Sì. 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 Centro per il Blue Penguin, il pinguino blu. Non si possono fare né video né fotografie. Assolutamente vietato. Il controllore continua a guardare. I prezzi sono 35 euro, 35 dollari per un ingresso normale. O sennò c'è il premium che però è stato venduto tutto. Comunque vabbè i prezzi sono questi. Queste sono le casette dove teoricamente dovrebbero entrare i pinguini blu. Guardate quante ce n'è. Tutte casettine. Secondo me potrebbero aprire quel cancello lì. Quei posti là sono i posti riservati d'onore. Costano di più. 45 dollari mi sembra. I posti d'onore. Invece noi siamo nei posti normali che costano 35 dollari a testa. C'è questa platea che ti permette di vedere i pinguini. Non si possono fare foto. Non si possono fare video. Vediamo. Se qualcuno fa foto video li farò anch'io. Ciao. 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 Ciao.